Addio a sorpresa per Luigi Cinque, il numero 10 avellinese, lascia il bellizirpino di patron Alberto Belfiore e di mister Angelo Quaglia. Con un lungo post sul profilo Instagram Cinque, motiva la sua decisione a due giorni dalla riapertura delle liste dei trasferimenti, per una diversità di vedute con il club avellinese, ed ha chiesto esplicitamente di essere liberato dai Verde Fucsia, che lo hanno immediatamente accontentato, un fulmine al Cilserino, per la squadra impegnata nella lotta ai play-off nel campionato di promozione. L'ex calciatore di Ronia Mazzini e anche della Bisa Cese ha già salutato i suoi ex compagni e non prenderà parte le sedute di allenamento che precedono il big match contro la corazzata cimitile di mister Galluccio, previsto per domenica al fine di Montemiletto. Adesso il DS del club, Anzalone, dovrà cercare di rimpiazzare il fortissimo cernocampista vellenese, in vista del girone di ritorno, che si preannuncia vincente nella corsa alla post-season. La sconfitta, rimediata a Montesarchio nell'ultima giornata, ha già lasciato dunque in casa a Bellizirpino i primi rovinosi strascichi.